ciao ragazzi ben ritrovati a tutti per cui abbiamo creato questo secondo tra virgolette canale youtube perché questi sono contenuti veri e propri da primo canale quindi vi chiediamo di iscrivervi e di attivare la campanella anche su questo canale youtube per non perdervi veramente manco un nostro video se non siete iscritti pure sul primo canale fatelo anche perché tantissimi di voi su sto canale il 45% sul primo canale il 40 seguono sempre i nostri contenuti ma non sono iscritti che ve costa ce volete fa sta cortesia a noi farebbe veramente tanto tanto piacere vi assicuriamo che per voi è una cosa veramente insignificante ma per noi è importantissimo quindi due canali di calcio e anche solo video sfochi sulla formula 1 sul terzo canale extra calcio tutto in descrizione i canali compariranno qui durante il video devo ricordare fare mente locale sulle partite che devi analizzare napoli lazio l'abbiamo analizzata insieme non abbiamo avuto tempo in modo di fare il contenuto da un'ora insieme tranquilli però perché dalla prossima giornata tornerà tutto nella norma qua però non te voglio far parlare di atalanta di torino voglio entrare solo nei meriti diciamo delle big di cui non hai espresso no il tuo parere quindi inter fiorentina ed empoli juventus partiamo però da empoli juventus cronologicamente dall'ultima partita e poi chiudiamo con l'inter perché forse sull'inter ci sono più cose da dire sì 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 questo è vero diciamo che la juventus comunque ad empoli fa quello che deve fare a vittoria con gol per tempo direi che meglio di così diciamo la juventus non la poteva non la poteva imbastire più che altro per rispondere a quello che era stato il pareggio un pochino scialbo se così lo vogliamo definire contro il bologna della settimana precedente quindi la juventus riprende la sua marcia e sinceramente al di là del rigore sbagliato da vlaovic ok ci sono state molte critiche una parte della tifoseria ha criticato alcuni no alcuni hanno detto non fa niente abbiamo vinto chi se ne frega ma io infatti la vedrei più che altro sotto questo punto di vista tre punti fondamentali punto io penso però che le critiche siano arrivate nell'esatto momento in cui lo sbagli per quanto poi siamo esseri umani no e sono pochi fenomeni che non sbagliano un colpo quasi se non leggevo male la statistica erano 13 gol realizzati sul rigore da vlaovic e tre sbagliati due con la maglia della juventus l'altro l'ha sbagliato con la fiorentina se non mi ricordo male non proprio pochissimi sbagliati c'è boh capito c'è sta c'è sta chi fa di meglio però sì sì c'è chi fa di meglio però io capisco quando arriva la critica al minuto 39 quando la potevi praticamente chiedo sul 2 a 0 più che altro la critica è fine a se stessa all'interno della partita perché poi i tifosi conoscono la juventus conoscono soprattutto la juventus delle incertezze della passata stagione quest'anno è cambiato poco perché alla fine è arrivato solamente UEA c'è stato lo sfoltimento di Rosa poi parleremo anzi vi ricordiamo mi raccomando seguiteci perché poi squadra per squadra delle big andremo ad analizzare il calcio mercato entrate uscite di questa sessione per dirvi secondo noi se le squadre si sono indebolite o rinforzate quindi iscrivetevi anche per quel motivo e la juventus della passata stagione di fronte a un 1 a 0 rigore sbagliato probabilmente sta partita l'avrebbe pareggiata sì magari avrebbe subito quell'occasione strana in cui sarebbe arrivato al gol del pareggio senza poi riuscire ad afferrare un 2 a 1 per appunto prendere i tre punti quest'anno invece non succede e anzi la chiude poi Federico Chiesa nel secondo tempo all'ottantaduesimo su Chiesa di guardiavo poi ci sono state anche parole di elogio da parte di Allegri dove dice che comunque quest'anno deve ragionare da punta ha nelle corde almeno 15-16 gol io sono d'accordo anche io sono d'accordo fatto sta che alla fine Chiesa ti risolve la partita perché te la mette in ghiaccio all'ottantaduesimo sul 2 a 0 ragazzi non c'è più nulla da dire e chissà che magari non possa avere ragione Allegri sotto questo punto di vista Blaovic sicuramente è partito meglio rispetto all'anno scorso sembra essere un calciatore ritrovato se così vogliamo dire oltre il rigore sbagliato fino a prima del rigore sbagliato cioè hai avuto la stessa percezione mia se fai questa analisi è perché fino a prima del rigore sbagliato l'hai visto più consapevole l'hai visto molto più concentrato mi sembra un altro calciatore rispetto all'anno scorso poi ha subito un po' il contraccolpo e ovviamente è cambiata la partita ci può stare però ragazzi la coppia al momento Chiesa-Valavic lì davanti mi sembra funzionare molto bene sì perché poi il Chiesa della situazione è a ridosso di una punta secondo me sono proprio due calciatori che riescono esatto che si compensano a vicenda avvicinare Chiesa un po' più alla punta perché poi ha le caratteristiche inserimento ecco volevo fare sta critica l'unica cosa che non mi piace di Chiesa è che se lancia troppo se tuffa troppo secondo me c'ha sta cosa che se tuffa lo toccano lo sfiorano e comincia a fare lo fanno tantissimi altri calciatori ma lui secondo me lo fa con una lo accentua secondo me lo accentua veramente troppo faccio questa critica e lo dico in ottica nazionale italiana perché a me Chiesa piace tantissimo come calciatore però secondo me questa è una cosa su cui deve migliorare perché poi diventa anche fastidioso nei confronti delle squadre che affrontano sì anche nel vederlo proprio io mi metto anche nei panni di un tifoso della Juventus alla lunga vederlo sempre capito? sì sì non lo capisco ma non voglio fare la critica solamente su Chiesa perché l'ho visto fare in tanti altri calciatori ma certo perché l'abbiamo nominato quindi magari ci può stare la critica ti viene in mente la fai è fortissimo però raga secondo me può migliorare se migliora da quel punto di vista cioè io non dico che se te tranciano devi rimanere in piedi perché ovviamente cioè ma se te dovessero tranciare caschi se te fanno cascare non so se mi sono spiegato capito? però poi il fallo non te lo fischiano raga con la valla tanto al giorno d'oggi se te tranciano e te staccano una zampa è capace che non te lo fischiano così come cioè è capace che te lo fischiano all'opposto però non serve capito? secondo me ecco chiusa questa parentesi zitta zitta visto che tu non hai analizzato nel contenuto da un'ora la Juventus sta a 7 punti è terza con 7 punti con l'incertezza a Bologna per carità sono curioso io ho detto nel contenuto da un'ora sono curioso di vedere la Juventus quando affronterà una big sì 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 perché quello è il banco di prova perché che tu me vinci sì ok con l'Udinese in casa loro ma se hai la Juventus non ci sta niente di male vinci in casa dell'Empoli e poi in casa tua pareggi col Bologna quindi diciamo ad un primo innalzamento di livello tentenni esatto vogliamo ancora metterti alla prova e aspettare una big però intanto la Juventus ha i suoi 7 punti che non è tutto quanto però 7 punti sono pur sempre 7 punti allora questa è l'analisi che più aspettavate sicuramente perché poi è un risultato che per forza di cose si deve rapportare a il Milan che comunque affronta una semi big perché il Torino storicamente a livello di nomea non ti sto a seguire aspetta mo ci arrivo Milan-Torino il Milan fa 4-1 ah tu fai il paragone con settimana scorsa semi big match no aspetta il Milan oh a Roma ah no scusa scusa volevo dirla a Roma non so perché mi è venuto in mente di fronte al banco di una si la Roma può essere considerata una big indietro rispetto alle prime 4 diciamo al momento Roma e Fiorentina le può mettere sullo stesso livello bravissimo no ecco il Milan vince in quel modo si con la Roma l'Inter vince in quel modo con la Fiorentina il Napoli con un'altra big stecca se guardiamo la Lazio della passata stagione è una dimensione superiore alla Roma ragazzi perché la Lazio è arrivata seconda nella passata stagione il Napoli stecca ecco facendo questo paragone facendo questo questo parallelo come la inserisci l'Inter del 4-0 contro una Fiorentina che aveva due partite in più in settimana perché lo sapete ha fatto andata il ritorno dei playoff no spareggi di conferenza la Fiorentina poteva essere un pochino più stanca anzi sicuramente lo era rispetto all'Inter ma è comunque un 4-0 senza replica e soprattutto in che modo è arrivato questo 4-0 ragazzi l'Inter ha in queste prime tre giornate la squadra che ha espresso il miglior calcio possibile senza subire gol tra l'altro facendone una media di quasi tre a partita perché sono otto se erano nove erano tre perfetti a partita e soprattutto sopperendo alla mancanza là davanti perché era questo il noto cruciale che ci ponevamo tutti quanti non ci sono più Jekyll e Lukaku perdonate mi stavo dicendo Lautaro ma non è così e chi vi fa quei gol? ti alza la sticella Lautaro e Turam comincia a fare notevolmente la sticella e Turam ha avuto un percorso di crescita proprio esponenziale una prima partita così così la seconda partita molto meglio la terza ragazzi già sembra essere il compagno di reparto ideale per Lautaro a parti invertite dove Turam va a fare il Lautaro degli anni scorsi a ridosso di Lukaku diciamo così e Lautaro prende il posto di Lukaku perché i gol quelli pesanti veri e propri quando Lukaku diciamo che si scambiano molto di più allora sono più interscambiabili è una coppia molto più duttile perché una volta è Lautaro che ti aggredisce lo spazio e ti va a finalizzare e una volta te lo fatturam in occasione del gol dell'1 a 0 assolutamente sì quindi però c'hai molta più libertà d'azione cioè in Zaki c'ha più possibilità sì certo c'hai molte più soluzioni c'ha meno c'ha meno profondità allora no la profondità ce l'ha con la forza di trazione di Turam e di Lautaro quando ripartono però la boa alla Edin Dzeko che te protegge palla in quel modo ecco che te proteggono palla in quel modo Dzeko dal punto di vista tecnico vi ricorderete come poi smistava i palloni Luca con meno tecnica però comunque il lavoro lo sporco lo faceva Turam diciamo che c'ha caratteristiche lo fa anche lui ma non si possono è una punta completamente diversa due cose atipiche due cose diverse sapersi adattare esatto cioè sono riusciti già a ruotare già hanno trovato sembrerebbe una quadra poi ovviamente è la continuità che fa la differenza perché per me sta andando tutto bene il processo di crescita pazzesco poi se tra due tre quattro partite tutto quello che abbiamo visto che è buono adesso non funziona più allora poi un altro discorso l'Inter dell'anno scorso c'ha avuto tante incertezze tante sconfitte però quello che vediamo mi sembrano completamente dissipate cioè sembra veramente una squadra diversa e secondo me è proprio il percorso in Champions che ha alzato l'asticella a livello mentale dove tanti calciatori sono cresciuti hanno capito come devono comportarsi anche secondo me e soprattutto sentono il peso della maglia che indossano perché comunque giocare per la maglia dell'Inter secondo me non è mai una cosa semplice quindi calarsi in quel ruolo ti alza inevitabilmente anche la soglia d'attenzione a livello mentale e si dimostra poi tutto in campo perché l'Inter asfalta letteralmente la Fiorentina non c'è mai stata partita e ho visto prestazioni individuali sontuose lautaro su tutti ma anche comunque lo stesso Turam che si è già inserito in un certo contesto il centrocampo manca a dirlo ragazzi l'Inter al momento mi sembra la squadra forse un perino avanti certo è che settimana quando si ricomincerà dopo la sosta ci sarà il primo derby nella storia della Serie A con Inter e Milan da sole in testa della classifica non sarà mai verificato un derby dove entrambe Inter e Milan erano da sole in testa appaiate per la prima volta nella storia non lo sapevo vabbè siamo appena alla terza giornata per quello che dico poteva essere facile vedere una cosa del genere non è mai successo mai è successo solo un'altra volta però c'era in coabitazione la Fiorentina ma parliamo degli anni 60 come non mi hai risposto alla domanda te la rifaccio come la inserisci uno potrebbe dire davanti a tutti no l'ho detto no allora rispetto al Milan e rispetto al Napoli no perché poi secondo me bisogna un attimo riaprire anche il discorso Napoli lo avevamo già detto mi pare nel contenuto del post partita no possibile che basta un secondo tempo fatto male interpretato male con un dominio nelle prime due partite totale e un dominio anche nel primo tempo contro la Lazio totale è possibile che basta solo un tempo per ridimensionare così tanto il Napoli e già tirarlo completamente fuori cioè già se sottirate delle sentenze ovviamente no allora se vogliamo restringere il discorso a queste prime tre giornate è ovvio che è l'Inter che ha fatto talmente bene diciamo Inter e Milan in coabitazione quello volevo sapere cioè secondo te il Milan ha fatto leggermente peggio o con il fatto che hanno subito due gol e hanno fatto gli stessi gol comunque il percorso di entrambi lo metti a pari merito grossolanamente ai punti grossolanamente lo metto alla pari ai punti preferirei l'Inter ma solo perché non ha subito gol e quando ha giocato non è mai stato in discussione il risultato mai cioè non c'è mai stata occasione che le avversarie che hanno giocato contro l'Inter di mettere in discussione la partita il Milan più o meno simile con qualche rischio in più però ti dicevo il discorso Napoli se ristringiamo il discorso a queste prime tre partite è ovvio che il Napoli fa un passo indietro ma perché comunque si trovava davanti quindi si mette in perfetta linea con Inter e Milan se guardiamo il discorso anche della passata stagione con il Napoli che è campione in Italia io ad oggi le dico che è ancora il Napoli la favorita anche a dispetto di un Inter e Milan che partono così a cannone vediamo perché comunque essere campione in Italia ha un certo peso c'hai una certa responsabilità e soprattutto non vorrai lasciare campo libero alle altre devi saper reggere la pressione però all'interno della stagione ma vuoi fare bene il Milan l'anno scorso la pressione non la saputa regge nei confronti proprio del Napoli non mi aspetto lo stesso dal Napoli è quello che volevo chiedere chi lo sa che è presto ancora per dirlo però chi lo sa che il Napoli possa non reggere a parti invertite il karma può restituire capito può succedere perché non è scritto da nessuna parte può succedere però io vedo il Napoli una squadra molto molto attrezzata con dei giocatori di un certo livello che può tranquillamente reggere questa pressione e mettersi alla pari di Inter e Milan che sono partite meglio ma che alla lunga inevitabilmente dovranno avere qualche calo o diciamo per il Napoli l'anno scorso e poi Calin ce l'ha mai avuti praticamente però vediamo comunque tifosi del Napoli secondo il buon Fabio ci avete poco da preoccuparvi anzi forse la sosta arriva nel momento più opportuno riordinare le idee serviva proprio magari per chiudere definitivamente il cerchio del Napoli campione d'Italia quindi sosta che arriva nel momento giusto sconfitta se risetta tutto e se riparte ha detto tutto quello che doveva dire ringrazio tutti i nuovi iscritti grazie per esservi iscritti a questo canale youtube siamo 170.000 numero che sta passando inosservato ma grazie veramente a tutti grazie agli iscritti di vecchia data e come sempre grazie al buon Fabio grazie a tutti voi ragazzi alla prossima con un nuovo video ciao ciao